Abbiamo disputato una grande partita anche perché eravamo in condizioni ancora più ridotte rispetto alla partita di domenica scorsa perché mai ci mancava anche l'Evan e Babilozzi, quindi giocando in sette i ragazzi hanno dato tutto quello che avevamo abbiamo disputato veramente una grande partita a livello proprio di intensità, di difesa ma anche costruito tante delle buone situazioni in attacco abbiamo avuto dei cali durante la partita ma era anche non normale proprio dovuto anche al problema delle rotazioni però dico va bene così, è un passettino avanti ancora di più rispetto a domenica scorsa e adesso ci proveremo ai play-off.